Ciao a tutti, quello che vi preparo oggi è un impestato, un porto di sedante, infatti lo richiamo anche la parte dolcina re che è un po' etonica che ho preparato, base dell'Africa United. E ce lo sta preparando, e poi gli inviamo, tra Muraleccese e Polizia di Lecce. Allora, un succo di mentolai, dopo aver raffettato il piccera. Allora, il succo di carne è quello che ci sfonde proprio, che praticamente ha una funzione maggiore, dolcificante, di un liquido freddo, rispetto al glucosio normale. Com'è che è nata l'idea di questo? Perché io usavo sempre lo zucchero bianco, lo zucchero di canna, quindi io sto un pochettino per cambiare. Ho fatto una ricetta sul sottopio, mi sembrava interessante. Tutto il cocktail dove fai espirazione? Un giorno così, pensando, niente di particolare. Poi ci metto delle fogliettine di sabbia mediterranea. Creo, basta, diventando la condenza. C'è un' Grazie a tutti. 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Grazie.